Buongiorno a tutti ragazzi sono Gilberto e sono qui oggi tornato a portarvi un video molto molto semplice un video anche molto molto veloce ma visto che so che c'è tanta gente che magari non sa come si utilizzi Trading212 voglio farvi vedere come personalmente compro le azioni vi dico che sostanzialmente ci sono tre modi per farlo il primo è quello più semplice supponiamo che io debba acquistare Alibaba semplicemente cerco qua in questa sezione qua cerco Alibaba ci clicco sopra qua vedrete il mio investimento quindi io ho 1,9 azioni di Alibaba con un profitto di 0 praticamente perché avrei un profitto del 4% ma il cambio valuta è andato in negativo per me del 4% quindi sostanzialmente non sto guadagnando niente ma a me del cambio valuta non mi interessa nulla perché non ho intenzione di vendere nel breve periodo quindi non me ne importa assolutamente nulla comunque se volete comprare semplicemente cliccate su compra e c'è il primo metodo che è il comprare per numero di azioni supponiamo che io voglio comprare un'azione semplicemente clicco 1 e lui mi fa vedere che se voglio comprare un'azione devo pagare 205,73 euro che sarebbe semplicemente questo valore qua convertito in euro che sarebbe in dollari questo il secondo metodo è acquistare per importo quindi per valore quindi clicco qua sopra clicco su valore e voglio acquistare che ne so 100 euro di Alibaba mi fa in automatico il calcolo e mi dice che con 100 euro posso acquistare 0,4859 azioni il terzo metodo è l'ordine ad un determinato prezzo che semplicemente è l'ordine limit questo vuol dire che io posso impostare che mi compri un'azione una volta che raggiunge adesso è a 249,53 dollari io voglio che me lo compri solo se raggiunge i 240 dollari per dire in modo tale che se scende io non devo stare sempre lì sull'applicazione ma in automatico nel momento in cui il prezzo dovesse raggiungere questo importo qua il mio ordine andrebbe completato e io comprei semplicemente un'azione o quanto ho impostato al prezzo che ho deciso qua sotto l'ultimo metodo che è un po' più complesso è il metodo degli aerogrammi semplicemente dovete andare in questa sezione qua andare su aerogrammi creare un aerogramma che semplicemente è come se fosse per dirvi un etf che vi create da soli quindi facciamo aggiungere aerogramma supponiamo di voler mettere Apple, NIO, Tesla, AMD e Amazon avanti supponiamo che nel nostro portafoglio per fare un piano di accumulo vogliamo avere un 20% su ognuna quindi nomineremo l'aerogramma lo chiameremo aziende growth e una volta fatto avanti potremo in automatico o investire manualmente quindi usando i fondi gratuiti che ci sono già sull'account oppure potremo già impostare il fatto che se noi impostiamo ad esempio che vogliamo che vengano investiti 100€ ogni settimana magari lunedì impostiamo che in automatico il conto preeleverà 100€ e li investerà sulle azioni che abbiamo selezionato quindi quelle 5 azioni lì suddividendolo il 20% ognuno vuol dire che investirà 20€ su Amazon 20€ su Tesla 20€ su NIO e così via questo è sicuramente un altro metodo molto interessante ma la cosa che non mi fa impazzire e del motivo per il quale non lo faccio è il fatto che TNMD sono uno abbastanza ordinato e non mi piace vedere che ho ad esempio 0,15734 azioni di Amazon voglio che siano arrotondate a per esempio 0,12 0,15 0,20 voglio avere solo due decimali di più mi da veramente troppo fastidio ed è per quello che uno non investo inserendo l'importo perché come vi dicevo se io vado su Apple e faccio compra e imposto il valore se io metto 10 mi compra 0,095 azioni che tra l'altro è una cosa casuale perché se io mettesse 11€ vedete mi va aumenta sempre i decimali e a me da troppo fastidio ed è per questo che anche se io compro il lunedì come sapete compro 100€ e li suddivido in 10 azioni lo faccio manualmente perché mi piace di più quindi supponiamo che tra le 10 azioni ci sia Apple io semplicemente vado in numero di azioni vedo che 0,03 corrisponde a 3,15€ semplicemente faccio 0,1 e mi vado a comprare qualcosa intorno a 10€ quindi saprò che al mio numero di azioni aumenterà 0,1 Apple e mi piace molto di più così preferisco perché è molto più ordinato secondo me e soprattutto anche perché poi io importo le cose sul mio file Excel e anche sul mio portafoglio su Yahoo Finance e quindi mi è molto più ordinato e lo preferisco detto questo vi ho insegnato quelli che sono i 3 metri 3-4 metri che utilizzo io e sono quelli disponibili su 3212 detto questo era un video brevissimo ma niente regà se avete voglia e il piacere di guardare qualche altro video vi consiglio di aprire nelle playlist che ho fatto appunto la playlist inerente alla maratona che sto facendo a gennaio dove sto facendo un video al giorno ci sono video molto interessanti anche ad esempio video dove consiglio qualche azioncina da tenere d'occhio o comprare addirittura nel 2021 detto questo ragazzi ma io spero che questo video qua vi sia piaciuto lasciate un like un commento e niente ragazzi vi chiamo al prossimo video o ciao 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 Grazie a tutti.